6,3 milioni di cittadini sono fuori dal mercato del lavoro, quale è la ricetta del governo? La nostra ricetta è che nessuno deve stare a casa senza avere un'opportunità. Noi abbiamo bisogno di un paese che cammina alla velocità degli altri paesi europei. Per farlo la scelta deve essere quella di investire molto su questo versante, che vuol dire scuola, che vuol dire competenze, che vuol dire aiuto all'impresa, che vuol dire opportunità. Quindi per noi questa è la ricetta, diventare o tornare ad essere il paese delle opportunità. E il piano giovani? Il piano giovani oggi funziona prima di tutto con la garanzia giovani. Noi abbiamo 2 milioni e 300 mila giovani che non sono impegnati né a studiare né a lavorare. Noi vogliamo fare in modo che questi giovani abbiano un'opportunità. Quindi anche loro si registrino, vengano contattati, vengono aiutati a mettersi in rapporto con le imprese.